Saliamo ancora di categoria e sulla linea di partenza troviamo gli atleti della G5 che partono in questo istante per la loro avventura. Grosio ciclismo, fulgo, rossa nesga, cicli bettoni, San Marco Vertova e Valle Camonica, le vaglie sulla testa di un gruppo davvero numeroso. E' la San Marco Vertova ora che prova ad aumentare l'andatura e il pelotone comincia ad assottigliarsi. La San Marco Vertova Ci avviciniamo al traguardo e cala nuovamente l'andatura. Gli atleti si studiano e cominciano a pensare alla volata finale. Volata vinta da Cornolti Francesco dell'Ossanesga davanti a Gerardi Diego del pedale brembillese e Morzenti Lisa della Fulgor, Meris Francesco della Nembro, Gualdi Ettore della San Marco Vertova e Baldaccini Davide del pedale brembillese. Tra le ragazze vince ovviamente Morzenti Lisa della Fulgor su Nava Lisea della Bolgare e Pezzoli Laura della Gazzanichese.